Una cabina di regia per un confronto costante con le associazioni di categoria del territorio e la possibilità di portare a casa per Cremona almeno un presidente di commissione. Attilio Fontana, intervenuto ieri sera in diretta all'interno del telegiornale di Cremona 1, torna sulla formazione della nuova giunta regionale, dopo la delusione espressa dal territorio per la mancata nomina di un rappresentante cremonese con l'incarico di assessorio sottosegretario. Io ho cercato con i partiti di trovare una soluzione a questo problema, anche perché prima della Costituzione della Giunta avevo avuto un incontro con i vostri presidenti di Conf Agricoltura, con il presidente di Conf Industria, con il presidente della CNA e ho cercato in tutti i modi. Non è stata raggiunta la quadra su questa situazione. Quello che voglio dirvi però è che, primo, io avrò sempre un occhio particolarmente attento, come ho fatto anche negli precedenti cinque anni, nei confronti del vostro territorio. Credo di poter dire che in questi cinque anni si siano fatte tante cose, forse più di quello che era successo nel passato. E seconda cosa che sto cercando di valutare, se realizzabile, è quella di costituire un tavolo di confronto con tutte le associazioni di categoria di Cremona per poter avere la possibilità costantemente di confrontarsi e di affrontare i vari problemi. Penso che la creazione di questa cabina di regia possa essere un ulteriore elemento per farvi sentire più partecipi all'interno della Giunta e per ascoltare le vostre idee, le vostre proposte, le vostre preoccupazioni. Scartati incarichi più di peso e incisivi, però Fontana apre uno spiraglio sulla possibilità che ci sia posto per un cremonese, almeno come presidente di commissione. È difficile fare una previsione, io mi auguro di sì, vedi io mi sono battuto anche per ottenere un assessorato a favore della provincia di Cremona. Spero e mi auguro proprio di sì.